E io chiamo Rete Veneta, lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni questa sera ci porta a Rosà. Un divano e sacchi dell'immondizia aperti sull'asfalto, tutto abbandonato a pochi passi dal municipio. Una segnalazione che arriva alla redazione da un telespettatore di Rete Veneta e noi, come sempre, siamo andati a vedere. Bottiglie di vetro, taniche, avanzi di cibo, cartoni di pizza e un vecchio divano mal ridotto, appoggiato e incastrato a ridosso della siepe, una vera e propria discarica a cielo aperto in un piazzale privato di Via Roma. Ma al nostro arrivo, già al lavoro, la polizia locale, in mattinata infatti, avvisati i titolari dell'immobile, avvisata Etra. Nei prossimi giorni quindi l'area verrà sgomberata da rifiuti.